La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine del mattino partiamo dalla prima pagina si parla del maltempo si parla del blocco dei treni che ha spezzato l'Italia in due infatti parla proprio con questo argomento apre il mattino l'Italia tradita dai binari gelati il flop della stazione Termini spezza il paese in due con ritardi fino anche a 7 ore neve su tutta la penisola Roma nel caos in Campania, in Irpinia e nel Sannio scuole chiuse e poi il commento non abbiamo imparato dagli errori per la politica invece Renzi se perdo non lascio Salvini apre invece a Casa Pound se il PD dovesse perdere le elezioni non farò nessun passo indietro dice Matteo Renzi ma la sticella sotto la quale le tensioni potrebbero esplodere è quel 25% di consensi e intanto nel centro-destra Salvini apre a Casa Pound e poi il focus del mattino dal colle ai populisti ecco il risico dei governi possibili cambiamo argomento il caso Abusi la Curia chiese di ritirare la denuncia il prete in affari con la veggente di Meggiugori pressioni sulla sorella della vittima indagano i PM la vicenda di Don Michele Barone il sacerdote arrestato con l'accusa di violenza sessuale maltrattamenti e lesioni in una girandola di esorcismi e violenze nei confronti di minori e donne che plagiava la diocesi le scuole di la diocesi di Aversa e su questo argomento l'intervista a Monsignor Angelo Spinillo io ingannato non ho nascosto non ho dato ascolto alla ragazza perché i genitori difendevano Don Michele andiamo di taglio alto invece lo sport ieri sera posticipo di campionato con la gara Cagliari-Napoli che chiude il weekend sportivo vittoria per 5-0 del Napoli Fanta-Napoli lo chiama il mattino a Cagliari per gli azzurri una cinquina da Scudetto firmata Cagliari-Con Mertens-Amsi Kinsigne e Mario Rui e poi le pagelle la differenza in campo per il mattino e Sarri mentre per il top e flop Cragno promette Mario Rui castiga di taglio basso banche bruciati 7.000 posti di lavoro al sud meno sportelli rispetto al nord ma nella riorganizzazione si paga di più e poi per la cultura Lila e Lenù il volto delle amiche geniali dai romanzi della Ferrante alla fiction tv scelte le protagoniste bambine Questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti andiamo ad approfondire alcuni di questi argomenti in particolare sul quotidiano il mattino oggi ampio spazio dedicato al problema maltempo con le intense nevicate che hanno colpito tutta Italia e anche la Campania e la provincia salernitana partiamo però intanto a vedere com'è dal punto la crisi vissuta dal punto di vista nazionale lo abbiamo visto dalla prima pagina l'Italia si è ritrovata spezzata in due proprio a causa del maltempo vediamo Italia spezzata in due dice infatti il mattino stop treni ritardi da crisi di nervi Intercity Reggio Calabria Torino in 29 ore Del Rio chiede un dossier vediamo nevicata annunciata per tempo individuare eventuali responsabilità responsabili dei disagi queste le parole del ministro Del Rio l'annuncio il maltempo continua con vogli dirottati su Tiburtina oggi gli zero gradi garantiti e poi social Fiorello ironico dicono che tra qualche mesi inizia frozen Franceschini io fermo a Firenze questa è la battuta del dello showman e poi vediamo le previsioni per oggi che porta ancora neve anche nel Vallo di Diano infatti vediamo che proprio nella Lucania nell'antica Lucania quindi nella zona nella nostra zona al confine con la Basilicata si parla di neve e poi intanto a Roma però ieri altro problema perché si sono registrati appunto tantissimi caos e il sindaco di Roma Virginia Raggi però era in Messico vediamo Raggi prova a gestire l'emergenza dal Messico poi però riparte il sindaco non possiamo sbagliare ma PD e centrodestra attaccano qui Nevica lei pensa alla siesta queste gli attacchi e andiamo avanti ancora mal tempo vediamo scambi gelati il flop di termini a Roma si rivede il panico da neve sotto accusa la società del Ministero dell'Economia e il Comune l'alta velocità mezzi moderni su infrastrutture che non godono di buona salute non vengono controllate periodicamente e poi vediamo nelle immagini tutto la neve la capitale innevata partendo dal Colosseo poi i fori imperiali e ancora sulla spiaggia le nevicate sulla spiaggia di Ostia anche il bioparco il circo massimo coperti di neve lasciamo queste pagine e andiamo avanti andiamo sulle pagine dell'economia parliamo lo abbiamo visto dalla prima pagina parliamo dei 7.000 posti di lavoro in meno per le banche campane per le banche scusate per le banche del sud il report pubblicato sul quotidiano il mattino parla di bruciati 7.000 posti al sud meno sportelli rispetto al nord ma nella riorganizzazione si paga di più i primi a sorprendersi sono stati gli stessi estensori della ricerca all'ufficio studi della First Cisle nazionale una delle sigle sindacali del settore bancario perché l'elaborazione dei dati di Banca Italia sul numero degli esuberi nelle banche tra il 2009 e il 2017 dimostra che il mezzogiorno ad aver registrato in proporzione al territorio la maggior flessione occupazionale 12,4% di lavoratori in meno rispetto al 9,3% pari a oltre 7.000 unità pur avendo un numero di istituti di credito sportelli e dipendenti ampiamente inferiore alle altre macro aree del paese questi i dati per quanto riguarda i posti di lavoro nelle banche andiamo avanti andiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno vediamo quali sono i principali argomenti che interessano il nostro territorio e la nostra provincia intanto si parla ancora di neve di gelo e lo si fa con la foto della certosa di San Lorenzo in biancata vediamo il titolo trappola gelo bufera sui sindaci scuole del vallo e università chiuse in ritardo l'attacco perso tempo l'allerta era nota il capoluogo aree interne alto sele sotto la sferza di Burian maestre a cava imprigionate in classe dalla neve e poi le storie degli spalaneve salvano anche il funerale il caos tir di traverso cinque ore da incubo sulla Salerno Napoli andiamo di taglio alto anche qui lo sport però in questo caso si parla purtroppo della sconfitta della Salernitana ieri in campo alla Rechi contro il Parma sconfitta per 1 a 0 vediamo come titola il mattino confusi e infelici con l'Antuono traballa Salernitana sconfitta anche dal Parma basta un gol di Dezzi continua il silenzio stampa tifosi inferociti contro la proprietà e il mister valuta le dimissioni e poi il commento una squadra illogica che ha paura di tutto questo l'analisi dopo la gara del post gara dopo la sconfitta per 1 a 0 contro il Parma peraltro in casa per la Salernitana che invece puntava ad un posto nei play out per andare alla Serie A lasciamo lo sport andiamo ora di spalla il processo assenteismo a ruggi scattano altri 33 proscioglimenti e poi il dramma giù dal balcone del terzo piano bimbo grave cade giù dal balcone di casa dal terzo piano di un condominio e si schianta al suolo dopo un volo di diversi metri grave il bambino di 7 anni ricoverato in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli non è comunque in pericolo di vita dicono fiduciosi i medici partenopei ma le condizioni restano critiche il piccolo ha riportato diverse fratture al bacino agli arti inferiori e superiori nessuna lesione agli organi interni fortunatamente di taglio di taglio basso il lutto addio al presidente Mario Pisano la barra nelle fonderie spente poi verso il voto reddito di inclusione sport scontro tra De Luca Junior e Provenza questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo avanti e andiamo a parlare del titolo di apertura la campagna e la provincia di Salerno nella morsa del gelo vediamo il racconto l'abbiamo visto anche dalla prima pagina Spalaneve tra Sele e Alburni salvano anche un funerale Croce Rossa e Protezione Civile interventi salvavita sono bastati i primi 30 minuti di nevicata ieri mattina ad imbiancare tutto rendendo impraticabili le strade e cogliendo di sorpresa gli automobilisti e la macchia dell'emergenza attrezzata ovunque e poi anche in questo caso troviamo i vari luoghi imbiancati dalla neve le famiglie l'area del palazzo Belvedere a Sicignano si trasforma in una pista da sci naturale poi i luoghi fino a 15 cm di neve sommergono le chiese sugli Alburni e nel Tanagro e poi il punto le scuole restano chiuse l'incanto di museo e la certosa imbiancati intanto a Sicignano da soccorritori a soccorsi e con questa pagina chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa breve spazio pubblicitario e torneremo tra pochissimo per continuare a sfogliare i nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con il quotidiano la città vediamo lo scandalo delle mense ospedaliere appalti milionari e cibi rifiutati fino alla blatta ritrovata nella cena servita a Battipaglia l'ASL commissione di controllo i sindacati andremo noi in corsa questo il titolo di apertura e poi anche la città parla del maltempo che si è abbattuto ieri su tutta l'Italia ma anche quindi nella provincia salernitana vendiamo la foto la notizia signor Burian in clemente in coda con gli sci disagi nelle frazioni collinari caos sulle autostrade bloccate per ore Don Peppino De Luca parroco di Scafati apre la canonica ai clochard e poi andiamo di spalla il lutto fonderie morto il presidente Mario Pisano fonderie in lutto per l'improvvisa morte di Mario Pisano presidente del CDA aveva 88 anni oggi si terranno i funerali e poi cantieri porta ovest firmato il contratto d'affitto la ripresa più vicina stipulato il contratto d'affitto del ramo di azienda per la gestione di Salerno porta ovest ripresa dei lavori sempre più vicina continuiamo sempre di spalle il processo omicidio di Ravello chiesti 16 anni per Vincenza di Pino di taglio alto di taglio alto invece lo sport con l'ennesima sconfitta della Salernitana 1-0 contro il Parma in casa alla Rechi vediamo Salernitana nel Baratro con l'Antuono è a rischio KO con il Parma ed esplode la contestazione e poi polvere di stelle Ciccio della Monica il giocoliere che sfatò il tabù B andiamo di taglio basso storie violente cambi cellulare matti troverò solo dopo 7 anni vede condannato l'uomo che l'ha tormentata e ancora storie di vita lavoro e famiglia le prof si sdoppiano questa è la prima pagina del quotidiano la città andiamo avanti andiamo nelle pagine interne quelle dedicate alle notizie provenienti dalla provincia di Salerno in particolare sulle pagine del Vallo di Diano la polemica scontro imparato accetta nuovo round sulla Certosa la comunità montana se dobbiamo traslocare devono darci 180 mila euro il sindaco snobba l'incontro e attacca non ho nulla da dire parleranno le carte e poi ancora Montesano carta giovane al via gli sconti per i residenti tra i 15 e i 35 anni a sala consiglina dopo quattro anni dovrebbe ripartire la commissione pari opportunità queste le notizie riportate alcune delle notizie riportate sul quotidiano la città ora andiamo avanti andiamo invece sulle cronache in apertura si parla della politica e delle candidature nel salernitano vediamo in particolare il tema e la candidatura di Luigi Cesaro a Salerno invisibile e impresentabile Giggino a porpetta si nasconde salta per le poche adessioni anche l'incontro al Mediterraneo voto di scambio nell'inchiesta in cui è indagato con lo figlio compare anche il nome di Iacolare e poi di taglio alto invece lo scandalo che ha colpito tutta la campagna dei festini dei preti gay audizione in Vaticano anche per Monsignor Antonio De Luca ed il suo predecessore Monsignor Angelo Spinillo andiamo a Battipaglia Dario a battaglia continua scusate la battaglia Dario Vassallo attacca Alfieri continua a mentire sulle denunce di Angelo Vassallo Centropagina Cassazione Ciro Eboli e Carlo Bianco restano agli arresti di corso respinto non c'era inferiore la delibera approvata dall'Aggiunta Torquato richiesta di rinvio a giudizio per le 24 persone indagate tra i coinvolti l'ex consigliere comunale Nicola Maisto Luigi Sarno l'ex candidato a sindaco Mario Stanzione e il parroco Alfonso Santoriello Ancora Diario del maltempo la CISL attacca il rettore precisa colpa del sindaco perché ieri ci sono stati disagi anche all'università di Salerno con le lezioni che sono state chiuse in ritardo quindi molti studenti hanno poi trovato difficoltà a rientrare nonostante insomma vi siano stati anche alcune ditte di autotrasporti che abbiano anticipato dei rientri insomma comunque il caos si è registrato tanto da aver creato un gruppo whatsapp lo annunciava il professor Roberto De Luca un gruppo whatsapp proprio per tenere informati con anche gli autisti dei bus per tenere informati gli studenti di quali erano le novità e come potevano quindi orientarsi nel caos andiamo avanti ancora su questa prima pagina di Le Cronache il santone dell'Avvocatella fruttivendolo di Monte Corvino Moretti convoca Don Gennaro Giulio Massa nel mirino dei fedeli e poi anche Le Cronache parla della sconfitta purtroppo della Salernitana ieri contro il Parma alla Rechi cacciate con l'Antuono parla così titola per raccontare la giornata di ieri Parma Corsaro ancora sconfitti Granata la crisi tecnica porta il nome di Lotito e del tecnico questa è la prima pagina di Le Cronache andiamo avanti andiamo nelle pagine interne per parlare del maltempo che poi è il tema principale su tutti i quotidiani perché nonostante fosse stato ampiamente anticipato il maltempo si sono comunque registrati tantissimi disagi e soprattutto per i trasporti e vediamo il titolo neve e gelo nel Salernitano disagi per gli automobilisti gli studenti automobilisti bloccati sull'autostrada Salerno-Napoli problemi anche a vietri come ampiamente annunciato anche in città è arrivato Borian nell'agro i cittadini hanno dovuto spargere il sale traffico in tilt e poi continuiamo per il Vallo di Diano neve e disagi nel Vallo di Diano i primi fiocchi in concomitanza con l'orario di ingresso a scuola disagi sulla A2 come preannunciata è arrivata la neve con essa tanti disagi i primi fiocchi alle 8.30 orario di ingresso a scuola molti sindaci avevano emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole già da domenica altri invece hanno preferito aspettare per rimandare gli studenti a casa e molte scuole sono chiuse anche oggi infatti disagi si sono registrati a sala Consilina in località Sant'Antonio ma anche sulla Polla Teggiano e ad Atena Lucana intanto a Padula la protezione civile è sempre al lavoro per liberare i presidi essenziali continuiamo le polemiche questa volta per quanto riguarda gli studenti e l'Università di Salerno la polemica degli studenti universitari nessun avviso cercasi il rettore dell'Università degli Studi di Salerno l'ondata di gelo tanto attesa si è abbattuta sulla penisola tantissimi disagi alla circolazione causati dalla neve che in poche ore ha imbiancato la città di Salerno come del resto la provincia dal Vallo di Diano alla Valle dell'Irno il nevischio e il ghiaccio non hanno risparmiato nessuno e poi per quanto riguarda i disagi all'Ateneo che ha riguardato tantissimi studenti salernidani molti dei quali nonostante le difficoltà per le precarie condizioni atmosferiche hanno ugualmente deciso di sfidare il freddo raggiungendo l'Università avevo corso alle 10.30 speravo meglio credevo che alle 8.30 avrei avuto da parte dell'Università una qualche comunicazione in merito alla sospensione delle attività didattiche per l'allerta meteo e invece nulla queste le parole di uno degli studenti andiamo avanti continuiamo a sfogliare le pagine di Lecrona che andiamo ora sulle pagine della provincia sud dove troviamo invece una notizia a Caggiano perché il maltempo ha poi provocato anche un incidente con un uomo che è rimasto bloccato sotto un escavatore a Caggiano vediamo si ribalta un escavatore 63enne ricoverato nell'ospedale di Polla viene soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto liberare la persona rimasta incastrata nel capovolgimento del mezzo continuiamo vediamo quali sono gli altri titoli l'albanella vola tra ali di star dalla storia del paese fino agli anni 80 alla gran tradizione no gastronomica e lo stesso sindaco Renato Iosca a spiegare i due progetti di valorizzazione coinvolti anche gli alunni delle scuole dell'alberghiero ad Agropoli invece siti comunali ma utilizzati elettoralmente una denuncia a Movimento 5 Stelle alla Gcom infine Capaccio Pestum canoni demaniali per 265 mila euro il comune avvia l'iter per il recupero e con questa pagina di Le Cronache chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito